new team 2022 contro dimonios nel recupero della quinta giornata della futsal champions cup ma da parte della new team vinta al centro azione condivisa qua che viene conclusa da giuseppe spiga dopo pochi secondi la new team è già passata in vantaggio col numero 9 sbaglia il passaggio avanzata della new team palla al centro e giuseppe spiga mette a segno il 2 a 0 al terzo minuto blocca ancora avanzata giuseppe spiga solissimo salta il portiere e mette la tripletta 3 a 0 per la new team 2022 avanza qua ancora la new team palla al centro giuseppe spiga mette il quarto gol al quinto minuto di gioco tra conclusione salvata ripartenza i solitari ancora giuseppe spiga giuseppe spiga 4 a 0 anzi 5 a 0 per la new team avanza il 14 apre verso abyss milia sulla destra prova a il lavoro di milia palla che finisce a sfiorare il palo mellini a cercare giuseppe spiga e salta angius giuseppe spiga palla in gol e sono sei per la new team 2022 prova il numero allontana valdese ripartono giuseppe spiga scarica verso l'angella al centro ancora per giuseppe spiga e arriva il settimo gol per la new team il settimo per giuseppe spiga avanzano ancora la new team l'angella giuseppe spiga sono 8 per la new team angius conclusione romellini la salva in corner conclusione qua dalla distanza arriva una nuova rete per la new team assegno il numero 10 emmanuele murgia casula avanza il 2 apre verso l'angella l'angella al centro verso giuseppe spiga e la new team arriva in doppia cifra 10 a 0 gela l'angella prova a saltare ancora il portiere scarica ora verso murgia del filtrante verso casula scarica ancora verso giuseppe spiga una finta giuseppe spiga ancora lui 11 a 0 termina la prima frazione di gioco la new team conduce con un vantaggio gigantesco di 11 reti contro dei demonios ridimensionati con l'uomo in meno al centro verso giuseppe spiga e arriva il dodicesimo gol le spiga dall'aggancio va bel salvataggio da parte di milia per ripartire per i demonios avanza abis un bel numero scarica verso frau ancora abis cerca angius che va a sfiorare la rete per i rossoneri il portiere della new team robellini una finta avanza ad aprire verso murgia verso giuseppe spiga e arriva all'ennesimo gol per la formazione di casa ancora giuseppe spiga in gol lungo qua da parte della new team verso giuseppe spiga e la palla termina ancora in gol per la quattordicesima volta zanda zanda campo aperto zanda serve giuseppe spiga e arriva un altro gol per la new team ancora in gol il numero 9 angius il tiro e la palla entra in gol anche per i demonios grande percussione da parte di angius e 15 a la prova ad aprire al centro verso giuseppe spiga recuperando a cercare qua il fraseggio angius traversa piena qua la parte del nulla avanza casula verso giuseppe spiga e arriva anche un altro centro per lui passaggio ripartenza solissimo ancora giuseppe spiga giuseppe spiga che scarica verso l'angella l'angella e la palla entra in gol il gol qua probabilmente da parte del numero 15 massimo l'angella lungo qua di romelini a cercare ancora giuseppe spiga che aggancia avanza giuseppe spiga e segna ancora a campo aperto frau verso angius angius arriva il gol del 18 a 2 angela direttamente in porta su quest'azione termina anche l'incontro una new team inarrestabile sconfigge per 18 a 2 un demonios rimaneggiato costretto a giocare anche senza portiere e in quattro uomini